abc di youtube ben trovati da marco liguria in fin di vita la famosissima cantante in questo video parliamo di una storia e delle condizioni di salute precarie di una grande artista ma in questo video lanciamo anche un monito di coraggio per tutti coloro che stanno combattendo contro una malattia in questo video parliamo dell'aggravarsi delle condizioni di salute della dichiarazione shock fatta dalla diretta interessata che ha dichiarato cose molto preoccupanti come sono in fin di vita e non so quanto tempo mi rimanga queste sono state le parole pronunciate dalla cantante personaggio televisivo britannico linda nolan linda nolan a 65 anni ha ottenuto un grande successo soprattutto negli anni 70 ha formato una band di successo con la sorella e ha portato alla ribalta una serie di pezzi come good for dancing e don't make waves di recente le sue parole hanno fatto preoccupare la sua vasta schiera di fan e hanno gettato nel panico tutto il mondo della musica linda nolan ha dichiarato di essere molto preoccupata e non sapere quanto tempo le rimanga da vivere ma andiamo a parafrasare l'intervista che ha sconvolto il mondo intero l'intervista è stata rilasciata ad una rete britannica voglio dirvi che sfortunatamente il cancro si è diffuso al cervello non ci sono trattamenti se non la chemioterapia non mi arrendo sono ottimista perderò i capelli per la quarta volta non so quanto tempo mi rimanga nessuno lo sa davvero quindi per me è importante sfruttare al massimo ogni giorno e trascorrerlo con le persone che amo basta essere positivi basta essere positivi e il monito di linda nolan sono le parole che il secondo canale di marco liguori smist a tutti tutti coloro che stanno combattendo contro la malattia speriamo che le parole l'incoraggiamento di linda nolan possano fungere da esempio positivo amici youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sul primo canale di marco liguori e sul canale youtube marco liguori psicologia e crescita personale ciao a tutti